Grandi manovre in casa dell'Aquila Calcio. Ieri c'è stato l'atto del notaio che ha sancito che il 100% delle quote sono dell'associazione di promozione sociale Aquile Rosso Blu, associazione fondata dalla tifoseria che gestisce la società e che è proprietaria del logo realizzato dopo il fallimento che compare su tutte le maglie dell'Aquila 1927. Una giornata quella di ieri però nella quale la società ha messo in guardia cittadini e commercianti dopo la segnalazione di uno di questi che ha parlato di gente vestita in tuta rosso blu che si è presentata in un'attività a chiedere fondi per l'Aquila Calcio. La società ha ricordato che agisce solo per contratti di sponsorizzazione e fatture e con contributi liberali ma dietro fattura tutto è tracciato insomma. Credo che siamo l'unica società in Italia gestita completamente da ieri sera con il 100% delle quote nell'APS quindi dell'associazione che fu fondata diciamo in tempi non sospetti come detto tutto è detentrice del logo e quindi è stata una data da segnare sul calendario rosso blu. Intanto l'ambiente rosso blu è in fermento dopo la bella vittoria nella prima di campionato con una straordinaria cornice di pubblico domenica prossima c'è attesa per il derby a Chieti. Il ritorno in Serie D ha portato anche una campagna abbonamenti importante con oltre 900 tessere fatte e con la possibilità di sottoscriverne ancora sino al 22 settembre. Approfitto di questo intervento per ringraziare la città dal punto di vista agli abbonamenti che credo abbia fatto il record della storia dell'Aquila, gli sponsor, tutti i tifosi venuti domenica in massa sono stato felicissimo che finalmente abbiamo vinto quando diciamo lo stadio è gremito e domenica a Chieti c'è grande entusiasmo credo che saremo seguiti da tantissimi tifosi. Novità anche sul fronte sportivo perché la società rafforzata ulteriormente la squadra con l'arrivo del difensore Edoardo Caravillani classe 2004.